Luce perfetta, la lumière perfetta, è la terza parte di una trilogia dedicata a una famiglia nuorese dagli inizi del Novecento fino al Duemila. Le prime due parti sono state tradotte in Francia con il titolo La prima, La Ligne du Forgeron e la seconda, C'est Tatouin e La Lumière Perfetta, appunto la terza. Nella terza parte la storia si sviluppa ai giorni nostri in una stagione che va tra gli anni Ottanta e Novanta fino ai primi allo scavallamento del secolo e ritorna esattamente da dove era partita. La storia era iniziata all'inizio del Novecento e finisce alla fine del Novecento. È in maniera molto sintetica, la storia è un triangolo amoroso tra Domenico Guiso e Cristian Chironi. L'ultimo rampollo dei Chironi è Maddalena Pes, che è la donna fra di loro. Ecco, una specie di Jules Légime ambientato in barbagia, un Jules Légime 2.0. Il titolo attiene un po' al personaggio che è Luigi Polito, che è quello che si prende in carico di raccontare tutta la storia. E un po' attiene anche al mestiere dello scrittore, che è il decidere quando è arrivato il momento esatto perché una storia si possa raccontare. E quindi nell'interno del libro c'è una metafora di un pomeriggio, di un foglio bianco, della luce che si posa perfettamente su questo foglio bianco e sembra quasi un invito ad iniziare a raccontare questa storia. I miei personaggi sono un misto di esperienze autobiografiche, ma anche di invenzione letteraria e anche sotto certi aspetti imitazioni di altri personaggi. Cioè dentro i personaggi letterari tutti questi componenti si mischiano assolutamente, per cui alla fine da questo miscuglio viene fuori un personaggio apparentemente autonomo, ma che risulta autonomo solo perché lo scrittore l'ha custodito per bene, l'ha fatto lavorare come si deve. Quindi un po' tutte queste spinte. Il mio traduttore, Jean-Paul Manganarot, lavoriamo intanto con stima reciproca. Io credo che questo sia molto importante. Essere tradotti da una persona che ama quello che scrivi cambia il mondo, cambia le cose. La cosa migliore, io direi, del rapporto tra me e Jean-Paul è che lui in qualche modo collabora a scrivere con me questo libro in una lingua che non è la mia. Quindi io la sento molto più che una traduzione, quella che Jean-Paul fa proprio nei miei libri. Devo dire che per me è un privilegio veramente estremo, perché avere la fortuna di trovare il proprio alter ego con una lingua diversa è molto più che la fortuna di trovare un buon traduttore. Io credo che i miei lettori francesi capiscano una cosa che qualche volta invece ai miei lettori italiani sfugge. Poi è chiaro che i miei lettori italiani capiscono altre cose che i lettori francesi sfuggono. Però una cosa è particolarmente interessante di questa, cioè i miei lettori francesi tendenzialmente capiscono che io ho una grande formazione nel romanzo francese, come proprio come mio apprendistato. Io sono un appassionato di letteratura francese, sono stato un divoratore, eccetera. In genere i recensori dei miei libri, per esempio in Francia, queste cose le scoprono immediatamente. Nell'ultimo caso, appunto, per luce perfetta, sono stati richiamati secondo me le cose assolutamente più giuste, cioè Dumas, il conte di Monte Cristo e Girard, per quanto riguarda invece tutta la stagione, il rapporto tra Luigi Polito e la sua conversione. Sono due autori che, per esempio, in Italia sono stati citati pochissimo a proposito di questa opera, mentre invece per me sono assolutamente capitali, io sono un appassionato di Dumas e sono un appassionato di Girard e puntualmente mi si rivela Proust da qualche parte, senza che nemmeno io riesca a governarlo più di tanto, eccetera. Quindi credo che il mio particolare rapporto con gli autori francesi e con i lettori francesi dipenda proprio da questo tipo di famiglia in comune che abbiamo.